Anche le analisi di quest'anno dell'ASL ci confermano che l'acqua è una delle acque, forse l'acqua è di qualità maggiore e banneabile presente in Lombardia. Questo risultato è sicuramente il frutto di queste azioni continue di tutela del Lago Moro. Il Lago Moro è sempre stato molto amato da tutti gli amanti della natura e negli ultimi anni la frazione di Capodilago è stata oggetto di numerosi interventi come la pasterella o come la passeggiata per permettere a tutti, a nuoto o a piedi, di godere di questo angolo incantato in sicurezza. Interventi che hanno sempre tenuto conto dell'importanza di mantenere intatto il fascino un po' incontaminato di questo luogo e che proseguono con questa operazione di pulizia dei fondali. È un lago che ha bisogno di grande attenzione e molto delicato nel suo equilibrio e questo richiede azioni molto continue di manutenzione e di attenzione. In questo caso questa giornata di pulizia dei fondali completa un po' tutte le operazioni di tutela che sono già in corso, che sono nate ad esempio, ricordo, con la fitodepurazione a valle del sistema di depurazione della fognatura di Anfurro e devo dire che i risultati vengono costantemente confermati. Preziosa l'attività dell'Associazione Volontaria e Protezione Civile Sommozzatori Capriolo con la quale l'amministrazione di Darfo collabora da qualche anno sia per l'azione di ripulitura sia per la presenza domenicale e talvolta anche di sabato nel periodo estivo. Voglio ringraziare proprio la collaborazione dei sommozzatori del gruppo di Capriolo che sono costantemente presenti sabato e domenica sul nostro territorio con un'azione molto importante di informazione e non è un'azione di salvataggio ma è un'azione che controlla i comportamenti in acqua, quindi comportamenti scorretti e quindi un'importantissima azione di prevenzione e questo è importante perché qui a Lago Moro in questi periodi estivi sabato e domenica si concentrano parecchie centinaia di persone. No, non penso.